Buonasera e benvenuti, oggi vogliamo parlare del nostro nuovo progetto, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in cucina. Da questo momento utilizzeremo l'intelligenza artificiale per la creazione del video. L'intelligenza artificiale, come quella che stiamo utilizzando, è il chat GPT che noi chiameremo Chef GPT. Chef GPT può sicuramente aiutare gli chef nella creazione di piatti nuovi e innovativi, ma non può sostituire la creatività e l'esperienza che solo un cuoco umano può portare in cucina. Chef GPT può offrire suggerimenti e idee, ma l'interpretazione e l'esecuzione finale del piatto rimane sempre nelle mani dell'essere umano. Inoltre, con i miei colleghi, stiamo lavorando attivamente per creare una raccolta di video che dimostrano come l'intelligenza artificiale e gli chef umani possano lavorare insieme per creare piatti unici e straordinari. Vi invito a seguirci su questo viaggio culinario e a scoprire come l'intelligenza artificiale può migliorare la nostra creatività in cucina senza sostituire il lavoro degli chef. Grazie a tutti. Grazie a tutti.